La prima volta è stato un successo, torna in auge il servizio Frecciobus. Il comune di Sestri Levante rivitalizza uno dei suoi sentieri storici, quello dei ponti romani. Buona riuscita del service a favore delle mense dei poveri. I vincitori del concorso Balconi di Natale premiati questa mattina a Santa Margherita Ligure. Poli Sport Basket Lavagna, tra le mura amiche attende il Ponte Vera con l'intento di iniziare al meglio il 2020. Giettine signorine e signore ascolto, cortesi e telespettatori, a tutti voi la più grandiale buonasera. Benvenuti al TG di Guglio di quest'oggi, sabato 11 gennaio. L'apertura è dedicata ai noi a due fatti di cronaca, uno riguardante il pomeriggio di ieri, allora quando i carabinieri di Sestri Levante sono intervenuti su segnalazione di un cittadino nei pressi degli ospedali di Sestri Levante. Qui hanno intercettato due uomini, dei quali uno zoppicante e l'altro che lo sorreggeva. Quest'ultimo, quando si è reso conto del divenire degli uomini dell'arma, era mollato un borsone che teneva sulle spalle. Borsone che conteneva della riflutiva che i due avevano tratto in effrazione da un appartamento lì vicino. Il rimasto sul posto, ovvero colui il quale era claudicante, è stato riconosciuto come un cittadino originario del Marocco, 28 anni, privo di documenti e anche senza fissa dimora. Gli agenti dei carabinieri li hanno accompagnato al pronto soccorso di Lavagna, qui è stato curato per una ferita l'acero contusa al piede destro, quindi è stato tratto in arresto appunto per furto. Nel terzo pomeriggio di ieri, i carabinieri invece della stazione di Carrasco hanno tratto in arresto un quarantenne residente, in quel di Carrasco medesimo. Pregiudicato, è stato tratto in arresto in esecuzione a un ordine di custodia in carcerazione emessa dalla procura della Repubblica di Genova. Il succitato, già agli arresti domiciliari, deve scontare una residua appena di 10 mesi per reati contro la persona e di patrimonio. Per tal motivo è stato condotto alla casa circondariale di Chiavari. Una nota di servizio. Il casello autostradale di Sestri Levante resterà chiuso sia in entrata a direzione Livorno che in uscita, con provenienza sempre da Livorno, nella notte fra lunedì 13 e martedì 14 gennaio, esattamente dalle ore 22 di lunedì alle ore 6 di martedì per lavori. In conseguenza di ciò saranno chiuse anche le stazioni di servizio Riviera Nord e Riviera Sud. Ovvio ed evidente che chi deve entrare in direzione Livorno ha in alternativa o l'entrata di Lavagna o quella di Chiavari. Promuove e rilanciare il territorio del Tiguglio. Beh, diciamo che la città metropolitana ha la sua idea e per fare ciò andiamo a seguire il servizio. Promuove e rilanciare il territorio del Tiguglio. Per fare ciò uno dei punti focali secondo la città metropolitana e la riproposizione del servizio Frecciabus, così come è stato svolto nel 2018, in accordo con ATP al fine di garantire l'accesso dei turisti alle località costiere per mezzo di bus navetta, i quali, partendo dall'area di interscambio predisposta all'uscita del casello di Rapallo, raggiungono direttamente le località turistiche del Tiguglio occidentale, Rapallo, Santa Margherita Ligo e Portofino, o accompagnano le comitive all'attracco dei battelli a Rapallo. Qui poi le comitive stesse proseguono il viaggio verso la meta desiderata via mare. ATP Esercizio, attraverso il suo presidente Enzo Sivori, concorda con la città metropolitana per ripristinare il servizio, anche in accordo con le amministrazioni locali interessate. Ma tutto rimane subordinato ad una garanzia, circa la piena disponibilità a favore di ATP Esercizio, dello spazio di interscambio necessitante per il trasbordo di passeggeri. Per Andrea Gemignani, direttore di ATP Esercizio, l'eventuale eccellere risoluzione della pratica organizzativa potrebbe consentire ad ATP Esercizio di attivare il servizio frecciabus già in occasione della settimana di Pasqua. Bene, rimaniamo in ambito turistico perché il comune di Sastri Levante ha deciso, e ha già iniziato l'opera, ha deciso di rimettere in sesto uno dei suoi più storici ambiti sentieri, quello dei ponti romani. Seguiamo il dettaglio nel prossimo servizio. Hanno preso avvio con l'opera di pulizia e sfalcio della vegetazione i lavori di recupero del sentiero che, da Sastri Levante, sale fino alle rocche di Sant'Anna, detto anche dei ponti romani. L'intera operazione di ripristino prevede una spesa totale di oltre 330 mila euro, che il comune di Sastri Levante provvederà a coprire, in parte grazie a finanziamento ottenuto dalla regione Liguria, pari ad oltre 243 mila, rientrante nell'ambito dei bandi PSR, programma di sviluppo rurale 2014-2020, e per la restante quota con risorse comunali. Il radicale intervento privilegerà lavorazioni tese a garantire la piena conservazione dell'area, a livello storico e paesergistico. L'intero sintiero, che conduce ai ruderi della chiesetta di Sant'Anna, verrà rivisitato al fine di preservare l'originalità, indi restituirlo in toto percorribile. Anche i cinque ponti all'arcata unica presenti sul tracciato verranno fatti oggetto di riattamento della pavimentazione, nonché della muraglia di sostegno. Successivamente sarà installata una segnaletica, come da regolamento della REL, rete di fruizione escursionistica della Liguria, nonché pose in opera di arredi, quali panche e tavoli in legno. L'opera è svolta con il beneplacito della soprintendenza archeologica di belle arti e paesaggi, e sarà presente in loco un archeologo. Durante i lavori il sentiero dei ponti romani sarà interdetto al traffico, e per raggiungere i ruderi della chiesetta di Sant'Anna necessiterà utilizzare il tracciato più ripido. Questa mattina è stato presentato e le ha reso conto dell'ottava cena degli auguri natalizi con il Vescovo di tutti i service club a favore delle mense dei poveri. Noi abbiamo intervistato una delle responsabili. Si è tenuta stamattina presso il Gran Caffè di Fila di Chiavari la conferenza stampa relativa al service natalizio di tutti i service club della Diocesi, indetta da Lions Club International e Serra Club Tiguglio. Abbiamo con noi la dottoressa Silvia Garibaldi, District Officer della Lions Club International, che ci dettaglia sull'argomento. Questa mattina abbiamo fatto la consegna ufficiale dei buoni acquisto e dei beni alimentari che però ovviamente offerti dai vari esercizi commerciali che ci hanno dato una mano sono stati già consegnati nei giorni precedenti. Questo service è un service che riunisce 35 service club che tutti gli anni ci uniamo, ormai da otto anni, per beneficare le mense dei poveri. Quest'anno beneficheremo la Mesa Parocchiale di Rapallo, gestita da Don Stefano Curotto e siamo riusciti a raccogliere 3.350 euro che sono stati trasformati in buoni presso gli esercizi che ci hanno dato una mano a raccogliere quasi una tonnellata di beni alimentari. Ringraziamo per averci appunto fornito beni alimentari, Veridea di Sesti Levante, Conad di Chiavari, Di Meglio di Chiavari, FG Center di Sesti Levante, Santa Margherita Casarza, Copp, Liguria, Carefuro e Via Venezia Rapallo, Ponte Nuovo Alimentari di Rapallo, L'Osteria d'Upusu di Rapallo e il Centro Latte Rapallo. Siamo insieme a Don Stefano Curotto, che è il parco delle Santi Gervasi e Protasio, Basilica di Rapallo. Un appuntamento che si è rinnovato, quest'anno ha beneficiato la sua parrocchia di questo aiuto alimentare. Sono tanti i poveri che si rivolgono alla vostra parrocchia giornalmente? Allora, noi assistiamo numerose persone, in particolare questo service è andato a favore della mensa, la mensa serale che noi abbiamo insieme a tanti volontari di tutta la città, di tutte le parrocchie e anche oltre della nostra città. Ed è una mensa serale, quindi l'unica aperta nel nostro Tiguglio e mentre nessuno altro è aperta a pranzo. Quindi noi forniamo la cena a 32 persone tutte le sere e cena e anche cerchiamo di fornire un servizio di accoglienza, di incontro. Non è soltanto una distribuzione di cibo, ma è proprio invece uno stare a tavola, un parlare che ci sembra abbia un valore diverso. Secondo lei è peggiorata la situazione in questo ambito negli ultimi anni? Sono aumentate le persone bisognose in tal senso di aiuti non solo spirituali ma anche dal lato alimentare come appunto è stato rivolto a voi. Sì, sono aumentati le richieste di aiuto anche proprio nell'ambito degli alimenti. Quindi se una decina di anni fa, come dire, tante richieste riguardavano magari delle bollette soprattutto, adesso in questi ultimi anni si rivolgono ai nostri, come dire, i centri, i centri d'ascolto delle nostre comunità, anche persone sempre più che chiedono proprio alimenti. Allora possiamo rimarcare appunto l'opera veramente grandiosa che queste associazioni fanno a favore non solo della vostra parrocchia ma di tutto l'ambito diocesano con un grande grazie di cuore, diciamo così. Per noi è stato un gesto importante di grande generosità, ecco. E rimaniamo con la scia natalizia alle spalle per andare a Santa Margherita Ligua. Hanno avuto un'ottima idea gli amministratori comunali sanmargheritesi lanciando l'idea Balconi di Natale e stamattina la premiazione. Seguiamo. Cerimonia di premiazione a Santa Margherita Ligua del concorso Balconi di Natale, proposto per la prima volta nelle trascorse feste natalizie dall'amministrazione comunale. Ed è lo spirito natalizio il cagline del premio, da diffondere con addobbi vari, su finestre, terrazze, poggioli, nelle vetrine, arricchiti da giochi di luce. Tre le categorie coinvolte, a consegnare i giusti tributi, il sindaco Paolo Donadoni, l'assessore al commercio Valerio Costa, il consigliere comunale Franco Fati ed il componente dello staffere del sindaco, nonché presidente di giuria, Nicolo Cendac. Per la categoria Balconi a vincere è stata Roberta Sterbizzi. Nella categoria Negozi, Grigio Sabbia, più la boutique e la tenda, e il coaffer estetica Vanni. Nella categoria Hotel, ad avere la meglio, il Grand Hotel Miramari. Vi è stata poi la consiglia di un premio speciale, denominato Riciclo. Qui tre negozi di Piazza Mazzini hanno unito le forze ed hanno abbellito la città con materiali di recupero. Trattasi del negozio Il Petalo, Tutto per la Casa e L'Erbolario di Gaia. A chiudere, menzione Presepi al fruttivendolo milanese e menzione Umorismo al ristorante La Cambusa. Soddisfatti del buon esito dell'iniziativa, gli amministratori sommagretesi sono già protesi, con qualche miglioria, a riproporla a dicembre 2020. Andiamo a Rapallo, perché sotto la supervisione dell'assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio è iniziata questa mattina l'opera di ripristino della ringhiera, dei suoi sostegni e del cordolo alla base sul lungomare di Rapallo, che hanno stati devastati in occasione della mareggiata che colpì il territorio il 29-30 ottobre 2018 dagli yacht scaramentati dalla forza dei marosi ben oltre la scoliera fin sulla terraferma. Il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, ha dichiarato che l'operazione riporterà l'aria al suo antico splendore. E andiamo nell'ambito abitudinario del sabato, con la pagina degli appuntamenti. È un po' streminzita, ma poi ci rifaremo sicuramente dopo metà gennaio. Bisogna ancora, diciamo così, far fuori gli ultimi effetti natalizi e anche finanziari, non solo di mangiate, bevute e compri. Noi ricordiamo gli appuntamenti. Uno stasera, alle ore 21.30, presso il Circolo Arci-Orchidea di Santa Margherita Ligure, il gruppo musicale La Rib Gauche, composto da Luca Cresta, pianoforte tastiere, Fabio Lanzi, sax tenore soprano, Roberto Costa, basso elettrico, e Massimo Grecchia a batteria, presentano il loro primo album, dal titolo One. Domani, invece, all'ora 16, al Teatro di Cicagna, la compagnia Il Croco Gufo porterà in scena la commedia, scritta da Edoardo De Filippo, Filumena Martorano. Questa è un'opera di grande successo, che è stata rappresentata molteplici volte, non solo in Italia, ma anche all'estero. Per informazioni in merito, Teatro di Cicagna, 0185-190-8295. Chiudiamo con la Val Trebbiasi, Monte Bruno domani ospiterà il quinto raduno motoristico denominato Bellinentraffen, una giornata di grande festa per gli appassionati delle due ruote che i vi si raduneranno alle ore 10. L'accompagnamento musicale a cura del gruppo dei Mandillà, sommato alle accattivanti proposte alimentari, nonché una lotteria dotata di ricchi premi, renderanno ancora più gaia la giornata. Il ricavato della lotteria verrà equamente devoluto a favore di due esili, uno in Guatemala e uno in Kenya. La chiusura del nostro TG, naturalmente, sport al femminile. Serie B di basket femminile riparte il cammino della compagine della Polisport Basket Lavagna, la quale, tra poco meno di un'ora, le 20.30, sarà impegnata al Parco Tiguglio ad ospitare il basket femminile Pontedera. Può tenere che al momento è terza in classifica, exequo con il Prato a quota 16, mentre, ai nori, la Polisport Basket Lavagna è ferma da molto tempo a quota 8, ottava posizione, ma a quota 8 punti, exequo con il San Giovanni Valdarno. Dietro alle tigulline rimangono solo il Pegli, Grossetti e Rifreddi a 6 punti e la Spezia a quota 4. Ci si augura davvero che Fantoni, Annigoni, Fortunato e Company riescano ad iniziare al meglio l'anno 2020. È la tredicesima e ultima giornata di andata, la prova odierna, quindi dalla settimana prossima si ripartirà con la prima di ritorno. Certo il fatto che, tredicesima giornata, 13 porta bene, se poi è la prima dell'anno, chissà mai che stasera non faccia col paccio la truppa bianco-blu, noi ce l'auguriamo. Visto ciò, ci auguriamo anche che abbiate voi, signorine e signore d'ascolto e cotesi dei telespettatori, a trascorrere una serena fine settimana, come ci auguriamo da trascorrere anche Serena, nostra Serena Bonfiglio, che ha curato in maniera elegante anche quest'oggi la regia. Ringraziandolo ancora per ascoltare la visione, vi rimando a TGT Guglio di lunedì sera con Gioan Roberto Capello e naturalmente da Gianrico Semorili a tutti voi da Piccordiale. Buonasera! Restyling del Padiglione del Tè Efficientamento energetico del Commissariato di Polizia Piazza Roma Proseguono i lavori per la nuova pavimentazione Lungo Entella Nuovo verde pubblico Affluenti del fiume Entella Manutenzione straordinaria dei rivi Ottenuta l'autorizzazione dalla sovrintendenza archeologica della Liguria La Giunta Comunale approva il progetto definitivo di restauro del Padiglione del Tè presente all'interno del Parco di Villarocca Viste le particolari condizioni di degrado in cui verte si è reso necessario provvedere al recupero totale della struttura Liberty importante testimonianza storico-artistica cittadina inizialmente destinata ad ospitare intrattenimenti culturali sia all'aperto che nelle sale al piano terra Completato nel 1912 per volontà di Giuseppe Rocca l'immobile è articolato su più livelli modificando in parte una presistente casa colonica E' stato affidato l'incarico all'architetto Roberto Spinetto e sono previsti due lotti di intervento Il primo riguarderà la messa in sicurezza il recupero e la conservazione della struttura con l'apertura al pubblico e la piena fruibilità Il secondo il completamento delle opere di restauro interno e di alcuni arredi mobili Da Palazzo Bianco fanno sapere che il recupero del Padiglione del Tè che ci permetterà di ospitare venti, mostre e matrimoni in uno spazio unico Lo stabile di corso brizzolare a 5 che ospita il commissariato di polizia e il distaccamento di polizia stradale sarà oggetto di una serie di interventi di riqualificazione energetica dell'involucro edilizio e degli impianti tecnologici Di proprietà comunale la struttura è stata realizzata ad inizio anni 90 e si sviluppa su tre piani per circa 700 metri quadrati Non presenta lesioni strutturali, bensì diverse problematiche relative agli impianti di climatizzazione e riscaldamento alla vivibilità degli ambienti e agli elevati costi di gestione Affidato il progetto allo studio genovese a due architetti associati per la totalità dell'intervento è prevista una spesa che si aggira intorno ai 903.000 euro Il comune di Chiavari partecipando a un bando FILSE per il lavoro di ristrutturazione e ottimizzazione dei consumi energetici ha ottenuto un contributo a fondo perduto pari a 586.950 euro Interventi che si traducono in oltre 300.000 kWh di risparmio energetico annuo e il passaggio da una classe energetica F ad una A3 Terminato il restyling della parte a Ponente di Piazza Roma ieri è stato aperto un nuovo cantiere nei sottoportici a Levante e a Tigua Corso Dante Riqualificati anche i portici di Piazza Roma è risistemata la pavimentazione originaria mantenendo inalterate le caratteristiche cromatiche e decorative Mentre il tratto di sottoportici compreso tra Via Marsale e Piazza Cavour sarà oggetto di un intervento di restauro radicale viste le pessime condizioni in cui verte Il recupero delle pavimentazioni dei marciapiedi si configura come risanamento conservativo e rinnovamento dei materiali esistenti Sono anche in fase di progettazione ulteriori interventi per migliorare la vivibilità del centro nello specifico in Corso Lavagna, Via Fabio Filzi, Via Cesare Battisti e nel proseguimento di Corso Dante Pioppi, Pini e Lecci Rinasce il verde pubblico lungo la sponda ovest del fiume Entella nella zona compresa tra le aiuole di Corso Colombo e il ponte della Maddalena Eliminati i ceppi e radici sono partiti gli interventi di piantumazione e sostituzione del verde pubblico 20 pioppi per infoltire la vegetazione mancante lungo il corso d'acqua 8 nuovi pini a completamento del parco Renzi e 3 lecce all'interno dell'aiuole che delimitano i parcheggi di Corso Colombo Si è giudicata ai lavori la cooperativa agricola del Levante per un importo complessivo pari a 16.714 euro E' intenzione dell'amministrazione riconsegnare questi spazi e la collettività alle famiglie e i turisti che vogliono godersi il piacere di un'escursione naturalistica lungo le sponde dell'Entella Step successivo, la creazione di una pista ciclabile che colleghi la foce con l'entroterra e carasco Il comune di Chiavari ha appena approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la manutenzione straordinaria del fosso di Caperana e del fosso di Ri entrambi affluenti del fiume Entella Grazie anche al contributo di Regione Liguria, pari a 330.000 euro il comune sarà in grado di intervenire per mettere in sicurezza i due rivi scongiurando nelle relative criticità in un'ottica di prevenzione in caso di forti piogge L'ubicazione delle due aree di intervento lungo i corsi d'acqua a distante circa 1.300 metri ha obbligato i tecnici a creare due distinti cantieri Il primo, per cui sono stati stanziati 590.000 euro riguarderà la manutenzione straordinaria del fosso di Ri e del tratto a valle del fosso di Caperana in cui verranno eliminate le intominature e realizzato un canale nuovo a cielo aperto mentre il secondo si concentrerà sul tratto a monte del fosso di Caperana per una spesa pari a 300.000 euro previsto l'abbassamento progressivo dell'alveo fino alla quota di fondo del nuovo canale e l'allargamento dello stesso a monte di via Parma Io sono consigliere regionale, eletto nel collegio di Genova e quindi la mia azione ovviamente si svolge su tutto l'ambito territoriale della città metropolitana di Genova Carlo Bagnasco è il coordinatore regionale di Forza Italia è evidente che la nostra origine tigullina ci ha lasciato e ci lascia momenti di affetto di legame con i nostri territori per i quali in verità io mi sono sempre battuto cercando di portare quei risultati che a prescindere da chi svolge i ruoli sono utili ai nostri cittadini e creano le condizioni per una vivibilità migliore dei nostri territori abbiamo tanti problemi soprattutto sul fronte idrogeologico noi ci lavoreremo affinché il nostro partito faccia sentire la sua voce e aiuti a portare risultati importanti per il tigullio qualche risultato comincia ad arrivare sul tema della sanità sull'ospedale di Sesti Levante dove il prossimo 14 di gennaio verrà inaugurato il reparto a gestione infermieristica per il quale io mi sono tanto battuto e che credo sia una risorsa importantissima nel quadro dell'offerta riabilitativa che l'ospedale avrà sull'ospedale di Rapallo si cerca di creare le condizioni affinché l'ospedale sia una risorsa per tutti i cittadini e attragga eccellenze ecco questa è la strada noi non dobbiamo fare battaglia di retroguardia ma fare in modo che vengano in Liguria nei nostri ospedali professionalità eccellenti che facciano sì che i Liguri si possano trovare risposte qui nella nostra regione e che semmai vengano qui persone che hanno bisogno da altre regioni questo sarà un deterrente alle fughe e un modo anche per consolidare il bilancio della nostra Liguria sul piano sanitario come sapete nel 2015 quando siamo stati eletti abbiamo ereditato un disavanzo sulla sanità di 98 milioni siamo chiamati a ripianarlo e questo si può fare solo ottimizzando le risorse e cercando di eliminare gli sprechi su questo Forza Italia è in prima fila io personalmente e naturalmente il coordinatore regionale i nostri parlamentari Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco che mi sono sempre stati vicini e che voglio davvero ringraziare perché sono stati il mio punto di riferimento istituzionale e devo dire anche politico sono molto lieto della nomina della scelta che Berlusconi ha fatto di nominare Carlo Bagnasco coordinatore sono ancora più lieto della possibilità di avere Claudio Muzzo come nostro capogruppo in Consiglio regionale che è rimasta la bandiera di Forza Italia in Consiglio regionale che ha saputo difendere la nostra bandiera anche nei momenti più difficili sono stati nominati i commissari nelle province Ligure e Forza Italia si presenta a queste elezioni come ha dimostrato in questa conferenza stampa con grande entusiasmo, grande unità di intenti noi saremo la forza determinante in queste elezioni perché siamo l'unico partito che interpreta la moderazione nell'ambito del centro-destra siamo una forza liberale, riformista, cattolica, moderata e quindi sono fermamente ottimista e credo che i risultati elettorali delle prossime elezioni regionali ci daranno grande soddisfazione e il nostro lavoro che intendiamo fare in questi mesi con grande impegno mettendoci veramente tutto il cuore possibile avrà dei grossi risultati Previsioni metro per domani, domenica 12 gennaio cielo sereno per l'intera giornata verso sera si presenteranno deboli velature a causa di intensificazioni di aria umida sulla costa venti a regime di brezza, mare quasi calmo umidità su valori medio-alti temperature sulla costa minima 5 gradi, massima 13 nell'entroterra minima 0 gradi, massima 10 Tendenza per lunedì 13 gennaio cielo velato al mattino con intensificazione delle nubi nel tardo pomeriggio venti deboli, mare poco mosso temperature sulla costa minima 3 gradi, massima 10 nell'entroterra minima meno 1 grado, massimo più 7 attraversa minima meno 1 grado, massimo più 7